ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale il video di oggi sarà un video vedrete breve veloce e semplice per poter realizzare queste etichette che sono semplicemente in carta l'effetto finale lo trovo molto bello e quindi non sembrano neanche delle delle etichette realizzate sul vedete del cartoncino riciclato perché hanno con questo effetto vintage che le rende molto molto carine immaginate le applicate su dei barattoli su degli album su dei junk dovunque veramente vi venga in mente di applicarle sono semplici da realizzare veloci e potete farlo con il materiale che avete in casa nel momento che serve semplicemente dello stencil e della pasta e dei colori acridici e quindi è tutto tutto molto semplice direi che non c'è non c'è nient'altro da dire e passerei subito a vedere come realizzarle sono partita da del cartoncino di riciclo abbastanza sottile ma nello stesso tempo è più è un pochino più spesso della semplice carta che altrimenti rimarrebbe troppo morbida dopodiché utilizzo la ivy body past di stamperia e perché è una pasta molto corposa è una pasta che rimane abbastanza spessa e quindi va bene per fare questo tipo di lavoro dopodiché se voi avete qualche altra pasta diversa da questa va bene lo stesso l'unica cosa è che sia e che sia una pasta che lascia un minimo di spessore perché altrimenti se non avete abbastanza spessore non riuscite poi a fare risaltare la scritta una volta una volta colorata e vedrete il perché prendiamo ho utilizzato questi stencil di stamperia per esempio questo stencil di stamperia è per il mix media ed ha una consistenza leggermente più spesso degli stencil che si utilizzano per il decoupage quindi anche questo mi permetterà di lasciare una superficie maggiore di pasta sopra il mio cartoncino e vado a praticamente andrà a mettere la mia pasta ok non riuscivo ad aprirla sul mio stencil facciamo questo lavoro in maniera così attenta perché dobbiamo metterla bene dappertutto quindi teniamo fermo e andiamo a mettere la pasta partiamo dal centro verso l'esterno così la nostra non so se insieme rimane più si incolla praticamente al cartoncino con 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 il peso della della nostra pasta e andiamo a riempire bene dappertutto così in questo modo qua ok adesso vado a togliere un po la parte in eccesso per non sprecarla così anche se in questo caso vedete io lascio abbastanza lo spessore non pulisco bene bene con la spatola perché altrimenti tiro via tutta la pasta e poi non mi rimane lo spessore di cui vi parlavo prima questa è una cosa molto importante poi vi farò vedere che ho fatto anche le prove con delle altre soluzioni che funzionano allora togliamo il nostro stencil vedete che è rimasto ben impresso il disegno ed è abbastanza in rilievo nello stesso modo vado a farne anche uno qui così ok facciamo anche un un rettangolino di questi piccolini e qui facciamo penetrare bene la pasta all'interno di tutte le fessure e andiamo a togliere il nostro stencil così abbiamo il secondo particolare ora è importantissimo lasciare asciugare benissimo la pasta perché altrimenti nel momento in cui andiamo a dare il colore sopra con il pennello se la pasta non è perfettamente asciutta si rovina e quindi finisce lo scopo di quello che stiamo facendo quindi praticamente facciamo asciugare ritagliamo le etichette con la forbice e io ho già preparato delle etichette asciutte per per poter continuare perché altrimenti appunto rischio di fare io quello che vi ho detto c'è di rovinare il lavoro per cui praticamente queste sono state fatte con lo stesso stencil sono perfettamente asciutte infatti vedete che ne posso proprio fare così e non si e non si rovinano e quindi lavorerò queste ma sono praticamente cambia la fantasia ma il procedimento è quello che vi ho appena fatto vedere poi volevo ancora dirvi due cose perché io ho provato a fare anche qualcos'altro ve lo faccio vedere allora ho fatto anche un'etichetta con le scritte perché vengono bellissime quindi immaginatele poi attaccati a dei barattoli o dove volete comunque o su dei sui su dei junk su degli album potete veramente utilizzarle come meglio credete quindi ho fatto la stessa cosa che avete visto con lo stencil con una scritta però in questo caso lo stencil non era quello del mix media un po più spesso ma il classico stencil da da decoupage quindi le scritte sono rimaste più sottili quindi che cosa ho fatto ho preso questo per darvi delle alternative perché poi uno fa delle prove potete provare anche voi poi magari dite voi a me che cosa è meglio fare cosa no ho preso sempre di stamperia questo qui che si chiama si chiama con calma se non mi metto gli occhiali il contour non mi veniva in mente bianco cosa ho fatto sono andata a ripassare le scritte nei punti in cui erano rimaste troppo e troppo sottili perché non era rimasta abbastanza pasta quindi ho ripassato un po con questo con questo contour per dargli di nuovo quello spessore che vi dicevo è fondamentale per poter fare la lavorazione che vedremo alla fine un'altra cosa che ho provato a fare e che sono rimasta soddisfatta del risultato ho fatto questo adesso vi faccio vedere l'ho preparato ma dovrebbe essere qui quindi facciamo in fretta allora cosa ho fatto ho preso questo timbro sempre di stamperia o timbrato infatti si intravede con un verde ecco timbrato sul mio cartoncino è sempre il cartoncino di recupero che ho utilizzato prima e poi con il contour sono andata a ricreare la scritta questo perché ahimè se scrivessi senza un riferimento sotto sarebbe deleterio perché io proprio a scrivere sono messa malissimo se neanche io riesco a leggere le cose che scrivo dopo averle scritte quindi veramente scrivo male 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 e io quando prendevo appunti a scuola prendevo appunti e poi buttavo via tutto e devo farmi prestare gli appunti dei miei compagni per studiare perché sui miei non riuscivo più a leggere nulla quindi detto questo ho un piccola divagazione o mi sono praticamente fatta il timbro da da poter ricalcare la scritta e ho provato sempre con questo con questo attrezzo a fare quest'altra quest'altra prova così vediamo come viene poi va beh qua ho fatto giusto dei disegnini dei dei trattini vedete un pochino così coreografici per dare una un po di abbellimento all'etichetta quindi diciamo che questi sono i tre sistemi che ho utilizzato per fare le basi quindi stessi mix media stessi per decoupage con diciamo aggiustamento con il contour e questo direttamente con un timbro che io poi sono andata a ricopiare diciamo a ripassare completamente con il contour bianco di stamperia quindi detto ciò andiamo a vedere come colorarle allora prendo un foglio da mettere sotto così evito di di sporcare il mio supporto così lo mettiamo sotto allora cominciamo da queste etichette qua ho deciso di utilizzare questi due colori sono acritici semplici quindi questo blu avio è un pochino di ombra quello che uso per fare le ombre adesso in maniera molto così veloce senza vado a colorare le mie etichette allora bagno un po il colore in modo da renderlo un pochino più liquido così non è troppo spesso questo sempre per evitare di di creare spessore che mi va a togliere poi spessore allo stencil che ho fatto quindi dobbiamo fare un colore un pochino deve essere coprente sì però nello stesso tempo non deve essere neanche troppo spesso in modo da lasciare da gli spessori che abbiamo creato dopodiché voglio andare a mettere anche un pochino di marrone in certi punti così in maniera un po irregolare perché voglio che abbia questo effetto un po così antico un po vintage che a me piace tanto ok ti mettiamo ancora un po di blu qui ok e nello stesso modo vado a fare anche l'etichetta piccolina quindi azzurri no è un po di marrone vedete che è un lavoro anche veloce veloce non è niente di lungo ok direi che così basta invece giusto per andare avanti proviamo a fare ecco proviamo a fare tipo questa perché tanto diciamo che questa più o meno è la stessa perché ho ripassato uno stencil però questa l'ho scritta direttamente con il con il contour quindi andiamo a vedere un attimino come come viene cambiamo colore completamente quindi andiamo a prendere un po un cardino magari mi piacerebbe sì questo questo verdino qui lo mettiamo qui ok prendiamo un po d'acqua in modo da rendere un po più fluido e andiamo a colorare ora chiaramente io ho colorato direttamente con il colore che mi interessava però una cosa importante e se il cartoncino fosse stato per esempio marrone piuttosto che un altro colore un po più scuro è sempre meglio metto anche qui è un pochino vedete di marrone quello che ho usato nell'altra etichetta per dare questo effetto vintage dicevo se se usate del cartoncino più scuro vi consiglio prima di di passare il colore che preferite di dare una mano di bianco in modo che si veda poi bene il colore perché altrimenti il colore che date rimane sempre più rimane sempre più scuro quindi fatto ciò andiamo ad asciugare con il phon le nostre etichettine anche questa è un'operazione delicata nel senso che bisogna fare asciugare molto molto bene il nostro cartoncino io ho cercato di farlo e spero di spero che sia sufficiente diciamo che per fare questo tipo di lavoro io vi consiglio anche di di non farlo magari tutto insieme per esempio io ieri avevo passato lo stencil l'ho fatto asciugare poi non c'è bisogno che stia un giorno però comunque deve asciugare tutto molto bene e anche in questo caso spero che adesso ho passato solo il phon perché voglio farvi vedere come finire le etichette spero che sia sufficiente però se voi potete lasciate asciugare proprio bene bene il colore così non rischiate di fare dei pasticci adesso vediamo se riusciamo a a non farli durante il video che sarebbe un peccato allora cosa facciamo bianco adesso vedete che tutto è molto in forma e non si vedono più niente qua più o meno si vede ancora un pochino ma in maniera molto 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 leggera il nostro stencil ora dobbiamo fare riaffiorare tutto quello che abbiamo evidenziato con lo stencil quindi cosa andiamo a fare prendiamo del bianco poi prendiamo un pennello io adesso utilizzo questo comunque potete l'importante che sia un pennello perché io mi trovo bene con quello a setole dure come questo deve avere le setole dure in modo da scivolare e non penetrare nei nelle fessure che sono state create dallo stencil dobbiamo rimanere in superficie quindi più è duro il pennello e meglio si riesce a fare questa operazione cosa vado a fare vado a tamponare il pennello con il bianco e poi lo vado a scaricare bene 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 sul sul mio scottex in modo che facendo questo lavoro qui ricordatevi di farlo sempre dal bordo verso l'interno portate la quantità di bianco che preferite in questo modo qui vedete che andiamo a fare riaffiorare il disegno che c'è sotto e l'effetto vintage che ne rimane a me piace un sacco non si direbbe che sono delle etichettine di semplice cartoncino riciclato quindi andiamo a fare la stessa cosa anche per gli altri bagno di nuovo scarico questa è un'operazione che dovete fare in maniera molto delicata così poi potete iniziare molto delicatamente poi se vedete che volete un po un po più di bianco potete calcare un po di più però mi raccomando di non farlo subito perché rischiate di fare delle macchie dall'esterno verso l'interno così e poi andiamo a sporcare la parte centrale del disegno guardate anche questa e adesso facciamo la prova su quella che ho fatto con il contour vediamo un po qual è l'effetto ok vedete che sta riaffiorando la mia scritta che non si vedeva praticamente più con questo colore ok sta riaffiorando tutto il mio disegno sì direi che l'effetto mi piace facciamo ancora un po qui ecco vedete che è riaffiorata la scritta Joy ve le faccio vedere su un foglio nero opaco così si vedono meglio eccoci questo l'effetto delle nostre etichettine finite potete veramente usarle in tantissimi in tantissimi lavori come applicazioni perché sono veramente veramente carine anche il video di oggi è terminato come avete visto è stato un lavoretto molto molto semplice però secondo me utile perché adesso voi potete spaziare con la fantasia fare tutte le etichette che volete ma l'effetto rimane veramente bello e sono sicuro che vedrò dei lavori con con queste etichette applicate in qualche modo perché la fantasia di sicuro non vi manca se avete dubbi o domande come dico sempre scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao ciao